E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, notizia molto ma molto importante, ovvero quella di Leo Messi che non è più un calciatore del Barcellona. Ragazzi, il Barcellona che perde il suo elemento più importante della storia, perché secondo me Messi è il giocatore più importante della storia del Barcellona. Barcellona, dopo che questi anni, ultimi anni, non ha fatto bene né in Liga né in Champions, perde il suo giocatore simbolo, il giocatore più forte della sua storia. Adesso bisognerà vedere il futuro, perché si è parlato tanto di MLS, quindi l'America, si è parlato tantissimo anche del campionato asiatico o arabo, non mi ricordo, anche del campionato cinese. Bisognerà capire quello che farà Messi. Cioè ragazzi, era praticamente tutto fatto per il rinnovo, oggi è uscita l'indiscrezione. Anche io quando l'ho letta, cioè non rimasto tipo, no, non è possibile, cioè, anche, cioè addirittura Messi era disposto a dimezzarsi lo stipendio. Alla fine il Barcellona perde il suo giocatore simbolo. Io spero di rivederlo ancora in Europa, perché il calcio europeo ha veramente bisogno di giocatori di questo tipo. E che dire ragazzi, per questo è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo, come sempre, con un video. Bella raga!